La vendetta di Erdogan dopo la lunga notte tra venerdì e sabato ha portato finora in carcere oltre 9.000 tramilitari, agenti, magistrati, giudici e civili e dopo aver ordinato la destituzione di prefetti, poliziotti, dipendenti ministeriali, oggi il pugno del presidente turco si abbatte su oltre 36.000 insegnanti di scuole pubbliche e private licenziati in tronco. Chieste inoltre le dimissioni dei rettori delle università, cacciati 500 tra imam e docenti di religione. Tutti oppositori sospettati di aver legami con il potente imam Fethullah Gulen, una volta alleato storico del Raiz ora considerato da Ankara a capo del presunto golpe. Intanto continua lo scontro con gli Stati Uniti sull'estradizione proprio di Gulen, autoesiliatosi da diversi anni e dall'altra parte dell'Atlantico. Il governo turco ha preparato quattro dossier che proverebbero le responsabilità del ricco leader sunnita. Erdogan torna a parlare e ritorna sulla pena di morte. La pena di morte, sottolinea, c'è negli Stati Uniti, in Russia, in Cina e in diversi paesi nel mondo, solo in Europa non c'è. In Turchia era stata eliminata, ma non ci sono statuti irrevocabili, ammunisce il presidente turco, informato dai servizi segreti della possibilità di un golpe alcune ore prima. Domani si riunirà il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Poco fa i social hanno diffuso foto di una densa colonna di fumo nella capitale turca. Secondo il quotidiano liberale Hurriyet, si tratterebbe di un incendio in un palazzo e non di un attentato. La tensione è comunque altissima nel paese. La sensazione è che in Turchia la situazione sia molto più incerta di quanto dichiari il governo.